Guardate dove siamo arrivati. È un sogno? Non lo so, non lo so. Non so come vi sentiate voi, ma io sono sveglio. Oh, è stupefacente come io parli bene il russo. Bene, sì. Molto bene. Chi era quell'uomo, eh? Quello piccolo di statura? Pushkin? Che meridiglia, questo scarone. Pushkin? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Se non erro è il vostro maggiore poeta, è di importante, vero? Sì, l'ho letto in francese, niente di speciale, devo dire. No, no, no. Senta... Oh, mio Dio, come siete suscettibili. Perdonatemi, perdonatemi, vi prego. Vi domando scusa se ho offeso il vostro orgoglio patriottico. Orgoglio, orgoglio. Che cos'è mai un orgoglio patriottico? Orgoglio. 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 Orgoglio.